Occhio come mestiere è il titolo dell'esposizione che presenta oltre 60 anni di lavori di Gianni Berengo Gardin maestro indiscusso della fotografia di reportage e di indagine sociale. Il racconto che proponiamo al pubblico del Maxi ha un taglio geografico e si snoda tra le città e il paesaggio culturale italiano in un tragitto che si muove nello spazio e nel tempo ritornando sempre a Venezia che è centrale nel lavoro del grande fotografo. Le immagini in mostra sono state selezionate tra le più celebri, le meno conosciute e vi sono anche degli inediti stampati proprio per questa occasione. Nell'insieme si tratta di un patrimonio visivo unico caratterizzato dalla coerenza delle scelte linguistiche e da un approccio artigianale alla pratica fotografica che contraddistingue proprio la capacità di Gianni Berengo Gardin di guardare e usare l'occhio appunto come mestiere. Il soggetto principale del suo lavoro è l'uomo colto nelle sue reazioni emotive, nei suoi comportamenti, nell'ambiente in cui opera. Dalle prime immagini di una Venezia soffusa e intima alla Milano dell'industria, degli intellettuali, alle lotte operaie e ai luoghi del lavoro, ai reportage sugli ospedali psichiatrici, ai ritratti dei piccoli borghi e delle grandi città o delle città ferite come l'Aquila colpita dal terremoto o ai grandi cantieri come quello del Maxi, ritratto da Gianni Berengo Gardin proprio quando era in costruzione. È una fotografia potente che costruisce racconti e narra storie.